terza corsa al cirigliano premio Andrea avvia gli anziani di categoria F in Salchi ci sono i gentlemen la distanza è quella dei 1660 metri in prima fila Cowboy Clema, Dawson De Greppi Zingaro Doc, Zampillo P, Boyalter e Donna Summer Trebb in seconda fila Zumo P, Victory Power Zalix Piz, Caravaggio Grad e Doris De Gli Ulivi Gran lotto al via Zingaro Doc è attaccato a largo da Zampillo P poi lungo i paletti Cowboy Clemar l'errore di Zampillo P che lascia Zingaro Doc al comando Boyalter che converge in seconda posizione davanti a Cowboy Clemar lancio in 15 dopo aver assunto l'iniziativa Paolo Donadio in Salchi a Zingaro Doc cerca di gestire quarto iniziale in 30 scarsi a largo c'è Dawson De Greppi si arriva così al completamento della seconda piegata 600 metri ultimati in 44 e 8 abbandonato lo steccato Zumo P che si sistema in seconda pariglia dietro Dawson De Greppi primo giro ultimato da Zingaro Doc in un minuto e pochi spiccioli Zingaro Doc, Boyalter e Cowboy Clemar formano il treno interno quello esterno è capeggiato da Dawson De Greppi che si piega molto in curva seguito da Zumo P chilometro ultimato in 1'15'6 Zingaro Doc e Dawson De Greppi alle prese con Dawson De Greppi che va a coprire Zingaro Doc sembra poterlo sottomettere tre quarti di miglio in 1'30'5 si piega Dawson De Greppi difficoltà per Dawson De Greppi Zumo P passa e prende netto margine Tony Tony, Tony Tony, Tony Vitt e Zumo P facile, facile, facile nel più facile e disarmante dei modi mentre Cowboy Clemar a centropista viene a raccogliere la piazza d'onore lungo i paletti il numero 5 Boyalter arriva in piena spinta al terzo posto vedete Antonio Russo che esulta per il secondo posto di Cowboy Clemar gesto sportivissimo davvero gentleman basta il secondo per far esultare un gentleman media rilevante che dovrebbe aggirarsi intorno all'1'13'7 decimo più decimo meno per un ritrovato Zumo P il figlio di Ghiaccio del Nord Elvira Press e di proprietà della signora Elena Orlando Villani Raffaele Chiarone è l'allenatore e Tony Vitt alle redine lunghe al terzo successo in tre giorni